Prosegue l'iniziativa Osovirare, organizzata dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Sassari in collaborazione con la Lega Navale Italiana a sezione di Alghero. Il progetto di vela e riabilitazione, raggiunto nella sua fase più operativa grazie al supporto dei volontari della Lega Navale, ha coinvolto 14 pazienti di età compresa tra i 18 e i 55 anni affetti da disabilità psichica. Il progetto Osovirare è nato per offrire ai pazienti la possibilità di vivere un'esperienza riabilitativa che li valorizza e li aiuta a superare il senso di solitudine e le difficoltà nel rapporto con gli altri, grazie al confronto con uno scenario mutevole che permette loro di sviluppare la capacità di adattamento dei venti esterni, afferma la psicologa e psicoterapeuta dell'ASL Sassari Patrizia Palla. Con questa iniziativa la Barcavela rappresenta lo strumento riabilitativo che ci consente di aiutare i pazienti a raggiungere una migliore gestione delle situazioni potenzialmente stressanti e delle risposte ad esso correlate, sostenere a crescere il loro senso di autorealizzazione e autoefficacia, migliorare la capacità di gestione delle relazioni e interazioni all'interno del gruppo. Sono obiettivi che rientrano nel progetto personalizzato predisposto per ciascun paziente dell'equipe dei centri di salute mentale, conclude la dottoressa Palla, e che consentiranno ai pazienti di migliorare la qualità della propria vita. Il progetto socio-riabilitativo proseguirà nei mesi autunnali e si inconcluderà a febbraio 2019. All'avvio al termine dell'iniziativa sono stati e verranno distribuiti dei questionari per conoscere e misurare i risultati di questa esperienza riabilitativa.